Benvenuti, Italia, Milano, Black Knight VIP, Buddha Bar, tutti i giovedì e venendo. Ciao ragazzi, questa sera ci troviamo al Buddha Bar di Milano per la serata Black Knight VIP, siamo qui con Didier, direttore artistico, ciao Didier, benvenuto. Ciao ciao a tutti, serata completamente Black, hip hop music, R&B, reggae, dancehall, tutto ricomponente della Black music. Abbiamo un po' di tutti, italiani, senegalesi, francesi, americani che arriveranno anche fra poco, da tutto il mondo. Un label da 5 anni, giovane etichette con un giovane staff, lasciamo spazio anche ai nuovi talenti, nuovi ballerini, nuovi DJ, nuovi MC. Al Black Knight VIP con Didier. Grazie, seguiteci. Black Knight VIP, siamo qui con Ciso Junior DJ e Black Angel, quale sarà la select? Principalmente hip hop, R&B, le hit nuove, vecchie, reggaeton, sempre nel mondo della Black music. Musica nuova, musica molto radiofonica, americana, ci crediamo un po' tutti. Ho la possibilità di essere cresciuto in una discoteca che è il Palladium dal 1985. Grazie a quella sono cresciuto, sto comunque portando avanti un progetto che esiste da 24 anni e stiamo cercando insieme a Black di portarla in giro per Milano e sperando di spostarla in varie piazze. Yo yo yo, Black Knight VIP, DJ MD No One, Big L, Mariano e il DJ del Palladium. Questa è la prima serata, aspettatevi di tutto ragazzi, ogni giovedì e venerdì. Hip hop, R&B, dance all. Intendiamo far venire qua tutta la gente che ha voglia di divertirsi con la bella musica. Quando è iniziata la tua carriera? Io ho cominciato a 14 anni e fino adesso ho fatto l'MC, il DJ, sempre hip hop, R&B, dance all, ragamaffi. Ho iniziato qua a Milano, sono entrato in Italia diciamo dal 99, quindi ho iniziato a suonare dal 2002. Il gruppo con cui verrò a ballare qua si chiama Work in Progress, siamo in 14, quindi oggi siamo una piccolissima parte. Matteo, Sara, Ricky. Giorgrafie sono di genere hip hop, new style, ragajem, perché io sono nel team di ragajem. Ragajem ha origine afro-gamaicane, tipo Sean Paul, Benny Man. Hip hop comprende comunque new style, old school, quindi popping, locking, breaking. Ho iniziato a ballare perché avevo 4 anni e ringrazio Didier che mi ha indirizzato lui veramente nell'hip hop. Avevo circa 17-18 anni quando l'ho conosciuto e poi quel tempo sono diventata anche un'insegnante. Ciao a tutti e benvenuti alla Black Night Vip, divertitevi. Mi chiamo Patrizia Motta, Patti M. Mi piace tantissimo la musica R&B, mi sono trovata con la Black Night Vip, la label Bernabelle. Ho iniziato in realtà studiando recitazione, trovandomi a cantare casualmente sul palco e ho scoperto che mi piaceva di più cantare che recitare. Stiamo cercando di creare un programmino, quindi un concorso, che non si svolgerà solo ed esclusivamente qua al Buda Bar, ma anche in un altro noto locale di Milano dove presenziamo la serata nella domenica sera. Vogliamo prima di tutto divertirci e cercare di creare un ambiente pulito dove tutte le persone di qualsiasi fascia d'età riescano a farlo con armonia e magari anche interagire tra di loro. Io non nasco come una ascoltatrice di musica pop, ho passato varie fasi, però arrivata a 31 anni la musica che più mi coinvolge è appunto questa. Ciao ragazzi, Buda Bar di Milano, siamo qui alla serata Black Night VIP, siamo con MC Carlito, benvenuto. Grazie. Dicevamo, come nasce la collaborazione con questa serata Black Night VIP, questa sera di inaugurazione, giusto? Sì, guarda, a parte che non è la prima volta che lavoro a Milano e già conoscevo un po' di gente, già ero un po' ambientato qua, sono venuto qua di supporto a CISO Y.R. Junior, no? Del Palladium, Vicenza, fare un po' di promozioni su nuove cose che stiamo preparando, no? Tipo ho appena finito un video di una delle mie canzioni del mio primo album, che già l'ha vendita su iTunes. Come si chiama? Mi'ispirazione. Come nasce questa passione? Guarda, io sono arrivato qua in Italia nove anni fa, ho cominciato prima a fare il vocalist, dopo di che mi hanno sentito, hanno detto ci piace la versatilità che hai con il microfono. Così ho finito un album già alla vendita, il secondo già finito, ancora non è uscito e già mi hanno chiesto il terzo, perciò se lavora, se lavora. I'm in the building, go check me out in myspace.com, Carlito, el intocable, y el que es mentira a mi se desmadre, papi, llego yo aquí en el 2009. I don't know if I can say this in the microphone, pero no me interesa porque de Puerto Rico soy, papi, yo estoy representando en el Buda Bar, en esa cabecita mía tengo un plan. Sous-titrage ST' 501